vola sul letto bianco vola cinzia tu sei una gran porcona vola cinzia su nel cielo più in alto sempre volerà sta passata la contraerea vabbè mi hanno beccato bentornati e ben ritrovati spento? sì allora secondo episodio ragazzi di bombe di calciomercato del Gabon preparatevi tifosi di Inter Juve, Milan, Napoli, Roma, Lazio calciomercato estero le nonne, le zie, le cugine ci sono cose più divine di Youtube Italia perché ne ho veramente tantissime ma io ci provo nuovamente se su questo contenuto arriveranno almeno 2500 mi piace abbassiamo il tiro rendiamo le cose un po' più fattibili entro le 18 alle 18.01 vi porto il doppio episodio di giornata insieme al buon Fabio in alternativa se non arrivasse l'obiettivo mi piace che in realtà è semplicissimo da raggiungere ma dipende tutto da voi obiettivo nuovi iscritti a partire da questo momento entro le 18 200 nuovi iscritti approfittatene tanti di voi, ci seguono sempre ma ancora non lo hanno fatto se attivate la campanella attiverete le notifiche ogni volta che pubblichiamo qualcosa messa a risalire il polpettone resterete sempre aggiornati ragazzi soprattutto nel periodo di calciomercato altro canale di calcio e canale extra calcio tutto in descrizione come sempre i canali compariranno qui durante il video siete pronti? allora innanzitutto l'indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello l'avete indovinato in tantissimi ma era semplicissima ragazzi vi ho lasciato cuore ovviamente il nuovo allenatore del Bayern Monaco sarà Company che è retrocesso col Burnley qualcuno si chiederà ma come cazzo è possibile fare una scelta del genere? sembra una scelta vera c'è da dire una cosa che Company è molto stimato come allenatore da tutti praticamente dai più ecco mettiamola mettiamola così il Bayern Monaco ha preso una direzione ben delineata ragazzi vogliono credere in lui vogliono credere in quelle che sono le caratteristiche di questo allenatore è un rischio ovviamente ragazzi perché il Bayern ad oggi secondo me non si può permettere il lusso dei rischi A soprattutto dopo aver perso la Bundesliga perché abbiamo visto quello che il Leverkusen ha fatto cioè paradossalmente devono colmare il gap con il Leverkusen per la prossima stagione serviva qualcosa un po' più di sicuro un po' più di certo staremo a vedere quello che succederà nuovo indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello ragazzi è una girandola di allenatori questa pure è semplice ma voglio che mi scriviate qua sotto nei commenti ma mi si è aperta la finestra mi si è aperta mamma c'era la finestra ma è stata tirando vento è passata la contraerea sono cagato sotto dico ma chi è che mi sta entra dentro casa cioè è un qualcosa mi sono scordato la finestra aperta chi è il prossimo allenatore del Chelsea ragazzi scrivetemelo qua sotto nei commenti e sono curiosissimo di vederlo all'opera ve lo anticipo poi ne riparliamo chi lo sa spero nel doppio episodio di giornata da dove cazzo partiamo ragazzi perché qua veramente ce ne sono alcune che mi lasciano anche un po' perplesso continuiamo sulla lunghezza d'onda degli allenatori non so se sapete ma con Seisau ragazzi che era stato dato in ottica Milan poi insomma sono successe altre cose altre situazioni sembrava poi alla fine potesse restare al porto alla fine della fiera e invece ha detto carissimi io me ne vado a fanculo addio al porto perché? perché in Sevilla con l'attuale presidente del porto Village Bosch sono successe tantissime situazioni ragazzi non sto qui ad entrare nei meriti perché ci vorrebbero tre contenuti dedicati per spiegare bene tutta la storia però sembra che già sia arrivata una ghiotta proposta economica da parte dell'OM da parte del Marsiglia se non leggevo male stamattina mentre stavo rincoglionito de sonno e staremo a vedere alla fine che cosa accetterà con Seisau sicuramente qualche altra proposta importante la riceverà eh sta al porto se non sbaglio boh forse al 2018 2017 2020 no no ma prima 2017-2018 qualcosa qualcosa del genere staremo a vedere insomma quello che succederà ancora ragazzi girandola di allenatori però mi sono rotto il cazzo no passiamo ad altro poi magari ritorniamo anche sulla grana allenatori le prestazioni di così tanti calciatori dell'Atalanta in positivo ragazzi non stanno passando inosservate non solo in Italia dove tanti club italiani si sono interessati a alcuni calciatori dell'Atalanta ma anche all'estero e quando Liverpool chiama io sfido chiunque a non rispondere perché il Liverpool è molto ambizioso come club anche in vista della prossima stagione quest'anno sono stati competitivi fino a un certo punto poi hanno mollato un po' dice non ci sarà manco coso tra l'altro Klopp insomma è molto particolare tutto quello che sta accadendo però se il Liverpool chiama Ederson e l'Atalanta chiede 40 milioni di euro in Premier League ragazzi non è in Italia che te dicono voglio Ederson me devo inventare è un giovane te devo da questo quella plus valenza fittizia non è per scherzare perché c'è sta poco da scherzare però ci avviciniamo alla realtà ragazzi il Liverpool si può permettere di spendere quella cifra e per quanto Casperini ragazzi resterà all'Atalanta avrà chiesto garanzie gli saranno state date ma sappiamo l'Atalanta come lavora come ragiona 1 2 calciatori partono reinvestono perché reinvestono e se riparte da capo da capo a 12 io sono convinto che qualora fosse reale l'interesse per Ederson ragazzi secondo me ci andrebbe a occhi chiudi nel giro te un attimo poi magari me sbaglio lato Lazio c'è la glana la glana la grana manco se lo comprassero in Cina la grana in Cina ormai non si compra più i giocatori perché il calcio non ce ne investe più Luis Alberto notizia di Fabrizio Romano qualche minuto fa prima che cominciassi la registrazione di questo contenuto una squadra del Qatar sembra che abbia offerto alla Lazio quasi quello che chiede l'Otito per la cessione di Luis Alberto e Luis Alberto ragazzi io veramente non comprendo la situazione perché prima dice che se ne vuole Annà poi segna con la Lazio sembrava essersi ripreso sembrava anche non dico avesse giurato amore rinnovato amore nei confronti della Lazio però una situazione molto particolare co-tutor nelle ultime giornate di campionato abbiamo visto tutti tra una volta è titolare una volta non ho capito bene ma questo fatto sta che probabilmente andrà via e io credo che quella sia la destinazione più probabile Qatar Emirati ragazzi però vi posso dire che spreco che spreco con la H a mezzo ne riparleremo sicuramente ritorniamo al lato allenatori perché Cannavaro ragazzi questa la devo cancellare però perché è l'indovine indovinello Cannavaro non è così sicuro di restare ma non perché non vuole restare lui bensì perché l'Udinese ragazzi vuole qualcosa in più per la prossima stagione dice ma li ha fatti salvare vogliono qualcosa in più per la prossima stagione non si fidano al 100% di Cannavaro sulla panchina dell'Udinese per tutta la prossima stagione forse perché hanno capito credo che sia abbastanza palese che l'Udinese in se può permettere di arrivare all'ultima giornata a salvasse per il rotto della cuffia col frosinone che te piglia pali traverse se te crea occasioni o coglie che te fai i miracoli tu riesci a segnare e te salvi ribadisco per il rotto della cuffia forse gli serve qualcosa di più esperiente qualcosa di più pronto stanno facendo le loro valutazioni ma io sono convinto al 100% che Cannavaro ragazzi che poi il contratto ce l'aveva fino al 30 giugno sta per scadere verranno fatte altre scelte peccato per loro che Nicola ovviamente ah no Nicola ha un corso d'opera per le salvezze se no non vale il discorso e vedremo quello che succederà adesso entriamo nel caldo dei club di serie A quelli un po' più succosi e dobbiamo partire dalla Roma dobbiamo partire dalla Roma perché ragazzi io ve l'ho detto quando l'Inter lo ha lasciato andare sto calciatore ve l'ho detto hanno fatto chi me segue da tempo sa non è che me ne sono uscito adesso quando ho visto le prestazioni ho detto l'Inter per me ha fatto una cazzata a lasciar partire un profilo di quel genere dandogli la giusta fiducia in un club eh potrebbe diventare veramente esprimersi al massimo è quello che è successo al Torino sto parlando di Bellanova non me so sbagliato minimamente la Roma ci ha messo gli occhi su la valutazione è importante perché il Torino vuole una ventina di milioni di euro ma ragazzi è stato convocato per l'europeo dove se pure gioca capite bene che là potrebbero entrare in gioco altre dinamiche altre situazioni la Roma sta sondando anche altre possibilità ce n'è una clamorosa se dice che De Rossi abbia sondato il terreno per Di Lorenzo visto che l'altro giorno Di Lorenzo tramite la gente ha fatto sapere pubblicamente che non vuole più restare al Napoli subito se sono inserite Inter e Juventus Fonte pedullà sembrava in vantaggio la Juventus in realtà sull'Inter e non lo so come andrà a finire fatto sta che De Laurentiis vuole una ventina di milioni di euro perché c'è il contratto di scadenza nel 2028 è in 31enne capite bene che non si possono sparare cifre esorbitanti ma in un calciomercato come quello odierno 20 milioni c'ha nelle gambe lunghe quindi io escluderei l'ipotesi Roma c'è da di un'altra cosa che Conte e questo è sempre Fonte di Marzio barra Fabrizio Romano quindi alquanto attendibile che sta per firmare praticamente per il Napoli ne abbiamo parlato ieri avrebbe detto Di Lorenzo per me è incedibile Di Lorenzo per me se volete che io venga sulla panchina del Napoli quindi vista questa smentita che in realtà smentita non è cioè è un categorico devi restare qua io credo proprio che alla fine della fiera Di Lorenzo probabilmente ci ripenserà parere mio personale poi nel calcio mercato odierno mai dire mai comunque oltre Inter Juventus e a sto punto anche Roma in notizia di un paio d'ore fa sembra ci sia forte anche l'interesse dell'Atletico Madrid anche questo c'è da dire anche dal punto di vista estero l'Atletico secondo me 20 milioni ragazzi se vogliono di Lorenzo che ci mettono a dargli quindi non escludiamo nessuna nessuna ipotesi allora visto che abbiamo parlato di Napoli di rimbalzo anzi no prima Milan prima Milan perché è interessante mentre mi risale il polpettone quello che la società sta cominciando a pensare in vista del prossimo campionato no? stanno cominciando a cercare dei tasselli non solo tra i titolari papabili titolari della prossima stagione ma anche come come rincalzo per avere una rosa competitiva su più fronti Champions League Coppa Italia e campionato hanno fortemente puntato Dorgu del del Lecce scusate ma ho avuto un attimo di vuoto non mi veniva a mente la squadra e è particolare in realtà perché è un calciatore secondo me interessante è danese di origini nigeriane se non mi ricordo male comunque molto molto particolare come calciatore ho detto 19 caratteristiche ben delineate ogni tanto ragazzi qualche nzeppatina qualche golletto ce lo ce lo butta e in prospettiva per il futuro secondo me insomma in Milan già qualcuno già ha parlato se si sono interessati a Dorgu è perché Teo Hernandez è vero proposte è vero pure quello ragazzi ma io credo che alla fine della fiera Teo Hernandez resterà meno che il Milan non vorrà monetizzare però se sta a parlare di Dorgu ma secondo me come alternativa te Hernandez via Dorgu diventa il titolare vabbè io vi ho detta poi ne riparleremo nelle prossime settimane passiamo all'Inter sono mesi che ve lo dico ho fatto uscire uno shorts ho fatto uscire ma abbiamo parlato anche nelle bombe di calciomercato in uno degli sporadici episodi invernali che io faccio solitamente una volta al mese stanno pensando al portiere del futuro perché perché Sommer non è eterno che quanto abbia dato garanzie però ragazzi non è un 25M che ha 10 stagioni davanti l'Inter deve cominciare a pensare al futuro e hanno bloccato in realtà sto calciatore ragazzi ma da tempo immemore ma già se ne parlava un anno fa se non mi ricordo male ma un anno solare fa se non addirittura anche di più e sembra che ragazzi alla fine si farà Bento già ve l'avevo detto dovrebbe essere il portiere del futuro dell'Inter un portiere che ragazzi per me può fare veramente grandissime cose per l'Inter stessa quindi staremo a vedere ma ribadisco per me le possibilità di vederlo non credo sin da subito titolare se lo prendono st'estate io non credo che diventerà immediatamente il titolare Sommer gli farà da chioccia e poi ci sarà il passaggio dei ruoli se così vogliamo dire però per me per quello che so io anche per quello che ho letto non ci sono alternative cioè l'Inter ha puntato fortemente lui cercheranno di prendere lui e vogliono puntare fortemente Juventus Tiago Motta già sappiamo tecnicamente non è ancora ufficiale ma capite bene che in un'era in cui i giornalisti danno per chiusa l'operazione del mercato se io dovessi aspettare a parlare dell'ufficialità e di Tiago Motta alla Juventus cioè non ci avrebbe senso parlare del calciomercato bisogna sapersi anche adattare a quelli che so i tempi Sky Sport ha detto Tiago Motta è fatta l'abbiamo data tutti per fatta ancora hanno affirmato tecnicamente e non è stato ufficializzato però è già arrivato Di Gregorio e ne abbiamo parlato proprio nel contenuto precedente Calafiori è vero che è vicinissimo alla Juventus perché Tiago Motta ha alzato la cornetta e gli ha detto bello se vieni qua con me fai il titolare non so se se stiamo a spiegare e ovviamente Calafiori che ragazzi lavorando con Tiago Motta è arrivato a questi livelli in Serie A dice sì a prescindere dalla squadra non è una questione Juventus Milan-Inter Tiago Motta sta là chi meglio di lui lo può in un club così importante però questo ve lo posso dire per certo nelle ultime ore nelle ultime 24 ore ha provato ad inserirsi il Bayern Monaco che al Bologna offre molto più di quello che offrirebbe la Juventus io non lo so c'è sempre di mezzo ovviamente quello che vi ho detto adesso della grana in positivo allenatore voglio andare lì è più rischioso andare ad un Bayern Monaco no comunque è Bayern Monaco ragazzi capite che cazzo stavo a fare però l'inserimento c'è stato io credo che andrà la Juventus alla fine ne riparleremo sicuramente se verrà ufficializzato se ci saranno clamorosi ribaltori di calciomercato e poi ragazzi se abbiamo parlato di Conte se abbiamo parlato di Napoli se abbiamo parlato ci sono degli aggiornamenti in realtà in merito perché nelle ultime ore hanno praticamente trovato la quadra economica Conte sarà l'allenatore più pagato della serie A 6 più 2 in totale 8 milioni con i bonus in totale 8 milioni di euro Conte ha fatto due nomi uno è imprescindibile e penso ci possiate arrivare a tutti quanti perché parliamo sempre di Romelu Lukaku ragazzi Lukaku se ne va dalla Roma ritorna al Chelsea il Chelsea vuole 40 milioni di euro se Osimena parte per 150 da quello che ho capito 40 li reinvestono su Lukaku non esiste situazione prestiti il Chelsea è stato categorico per quanto poi non se lo vogliono tenere sul groppone quindi non ci dovessero essere offerte ovviamente ragazzi il Lasse parla veramente depressito un'altra volta in quel caso spero resti alla Roma ma se Conte chiama Lukaku da qualsiasi parte anche fosse stato il Milan ve lo garantisco ma ormai credo conosciate il calciatore sarebbe clamoroso sarebbe clamorosissimo ragazzi perché sappiamo come Conte lavora con Lukaku e come sa farlo rendere sarei curioso di vedere con i calciatori che gli aggirano intorno in modo di giocare che ha Conte però ragazzi richiede anche una spalla dal punto di vista offensivo la entreremmo poi ipoteticamente ed eventualmente in altre situazioni però vi dico pure questa potrebbe essere anche lui la spalla seppur sto calciatore rende meglio da esterno c'è da dirlo però Allegri a ridosso Nevlavic ci ha messo tante volte si sta parlando anche di chiesa al Napoli e credo che il Napoli sia una delle poche squadre che può permettersi il lusso di investire soldi pesanti Tiago Motta non considera chiesa per il futuro della Juventus imprescindibile questo c'è da dirlo sembra strano ragazzi ma è così quindi se proprio la Juventus lo sappiamo anche in ottica calciomercato per autofinanziarsi deve rinunciare a un big chiesa potrebbe essere proprio il predestinato e chiesa accetterebbe di andare al Napoli a lavorare con Conte con Lukaku a ridosso ipotizzo io poi ovviamente ragazzi cioè è tutto dire diciamo anche perché non sarebbe facile andare ad incastrare chiesa nel modulo nel dettame tattico di Conte o lo butti esterno a tutta fascia ma insomma è un discorso un po' particolare perché poi chiesa non è uno che difende che può fare secondo me in un centrocampo completamente tutta la fara è una situazione un po' staremo a vedere sono curiosissimo di quello che succederà ma ribadisco quando ci stanno questi perché Napoli debiti non ne ha e gliene potrebbero entrare tanti così io non escludo veramente nulla ci riaggiorniamo spero oggi alle 18 se raggiungiamo gli obiettivi ciao